Il paradosso, io per avere più bisogno di fare qualcosa di molto pericoloso. Vabbè, in questo caso rischia la vita. La mia, quella degli altri, se chi vuoi può attraversare qualcuno all'improvviso la strada, che trovate? Non mi è mai capitato, però vabbè, oggigiorno capita che i ragazzi si sentono, poi si conoscono attraverso i web, i social. Penso, vabbè, sia una cosa normale, però comunque bisogna stare attenti a chi c'è dietro all'altra parte. Il mio consiglio potrebbe essere di non essere impulsivi e cliccare subito su questi link, perché potrebbero magari rubare dati personali. E quello che dico ai ragazzi quando vanno all'estero, qualora vi avviate qualcosa, una richiesta, dovete sempre diffidare. Grazie. 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 Grazie.